Si profila un grande successo l'appuntamento di Arturo Brachetti con l'Orchestra Sinfonica della RAI con Pierino e Lupo in programma il 15 e 16 aprile. I biglietti sono già quasi tutti esauriti, i ritardatari però possono rivolgersi all'auditorium di Via Rossini a Torino. E intanto la stare internazionale della magia si è esibito in un esilarante incontro a Canale. Da piccolo mio nonno mi diceva sempre, provi un bel Arneis. Già un vero Arneis, fin da piccolo un Arnese geniale, imprevedibile, unico, incontenibile, profumo di maghi, stare, vino tra le volte antiche a Canale. La laurea inventata dall'Enoteca del Roero passa ad Arturo Brachetti che la riceve con il ciuffo nascosto sotto un cilindro nero. Così il contrasto dei colori è perfetto, giallo paglierino è il vino che presenta il suo 2009, profumatissimo e stracolmo di raffinati retrogusti. Un cappello così certo che me le tempero ogni sera col tempera matite, un Arnese spero di esserlo ancora per un bel po' di tempo perché fa rimanere giovani. Una cascata di fantasia tra tantissima gente e la storia, sempre nuova ad un vino, uno dei pochi, che resiste alla palude della crisi. 4 milioni di bottiglie vendute, non solo si è ricavato un posto d'onore in cucina, quella semplice e povera, ma anche quella stellata che trasforma i piatti in quadri del gusto. Come Brachetti, trade union tra il mondo del sogno e la fantasia e quello delle vigne, non solo d'Arnese.